Nonostante le mille difficoltà legate alla non facile gestione del periodo seguito all'emergenza sanitaria, i soci del centro pensionati di Borgonovo provano a riprendere le attività. Ad oggi la riapertura del centro avviene per piccoli e graduali passi, sono ancora bandite cene, gite, eventi che potrebbero creare pericolosi assembramenti. Ci si accontenta del gioco delle bocce due sere a settimana e poi del burraco una sola sera a settimana con tavoli ridotti. Il vero banco di prova sarà però a settembre, quando si saprà se ci saranno meno le condizioni per riaprire anche al pomeriggio. Per molti di circa 200 soci iscritti, in gran parte anziani, il centro di Viale Fermi, soprattutto nel periodo invernale, rappresenta infatti un punto di riferimento insostituibile e la riapertura pomeridiana uno dei pochi momenti di socialità durante tutto l'arco della giornata. Una mano la danno anche i privati, di recente ad esempio un gruppo di volontari del paese ha donato un macchinario che aiuterà a sanificare gli ambienti. Il Covid ha un po' fermato tutte le attività, abbiamo chiuso per qualche mese, le adesioni si sono un po' fermate e abbiamo pian piano rieperto, primo il gioco delle bocce, distanziati, mascherine, abbiamo fornito tutti i liquidi disinfettanti eccetera eccetera. Poi in un secondo tempo abbiamo fatto anche l'attività del buraco con tavoli distanziati, anche le mascherine. Adesso siamo un po' più tranquilli anche sul gioco del buraco perché ci è stato regalato da un'associazione di amici qui di Borgonovo un generatore di ozono che lo facciamo partire in automatico una mezz'oretta prima del gioco e ci crea l'ambiente sterile e quindi accessibile con la mascherina in modo più tranquillo. Adesso speriamo in settembre, vediamo come vanno questi contagi però per quello che sentono non stanno andando bene, pensavamo di aprire ancora tutti i pomeriggi del centro. Stiamo insomma valutando queste cose, nel frattempo abbiamo progettato di sistemare un po' il tetto, insomma ne approfittiamo per fare un po' di lavoro e di manutenzione. Speriamo finisca sto Covid. Nonostante le mille incertezze i soci del centro sono riusciti a loro volta a compiere gesti solidali. Hanno donato fondi per la ricerca sul vaccino contro il coronavirus, fondi all'azienda sanitaria locale e anche alla locale Croce Rossa.